Benissimo ragazzi, dopo una parentesi fatalosa e sognatrice passiamo a un momento un po' più combattivo un po' più combattivo che sicuramente piacerà a grandi e piccini perché siamo pronti ad accogliere Rodrigo e Paolo dalla serie di Dragon Ball nei panni di Goku Super Saiyan e Majin Vegeta Super Saiyan Grazie 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 Cos'è questa energia? È molto più potente rispetto a quella per chi da finire Dobbiamo attaccarlo insieme Con tutta la potenza Io non prendo ordini da te No, quest'ora Allora Una